Partiamo dalle due reti bellissime, la prima insomma forse è anche meglio di quelle con il Savoia o è difficile fare classifiche? Ma è importante segnare, poi tutti i golli, mio papà mi dice sempre che tutti i golli sono belli, basta che entrano. 10 marcature in stagione, un traguardo importante, sei soddisfatto? Sì, molto, ma sarei più soddisfatto di fare qualche gol in meno e fare qualche punto in più. Pareggio difficile da accettare, poi anche quell'episodio lascia un po' perplessi, tu come l'hai visto? Era rigore? I ragazzi dicono che il rigore ci può stare, ma il rammareco resta perché siamo stati superiori per tutti i 90 minuti e non lo so se è sfortuna, ma è difficile da accettare. L'1-1 poteva rappresentare una mazzata, invece una bella reazione e la seconda tua marcatura sembrava decisiva, non è stato così? Non è stato così, i ragazzi ci credevano di fare i tre punti, ma non ce l'abbiamo fatto per un episodio sfortunato. Cosa subentra in quel finale, in quell'ultimo quarto d'ora? Sembra di notare anche qualche timore nella gestione del possesso, poi da un rinvio rimpallato nasce il cross del 2-2, non c'è neanche fortuna, però forse manca anche qualcosa. Quando una squadra da tanto tempo che non vince, certo, gestire il vantaggio non è facile, i ragazzi hanno giocato tutti bene, non si può rimproverare niente ai ragazzi, sono stati bravissimi. Ha pesato l'assenza di Camarda? Certo, Camarda è un giocatore, non di questa categoria, di categoria superiore, la presenza del capitano in campo manca sempre, ma dovevamo cercare di far bene e abbiamo fatto bene. La classifica, insomma, non incoraggia particolarmente, però l'ottimo secondo tempo è la base da cui il Città di Messina deve ripartire per credere ancora in questa salvezza. Due minuti fa abbiamo parlato con il direttore d'area tecnica e siamo fiduciosi, siamo sicuri di potercela fare.